Nelle ultime ore è circolato il rumor secondo cui una delle tre sorelle Selassie sarebbe incinta La replica dell'ex Vippone. In queste ore è circolata sul web una segnalazione che riguarderebbe le tre ex Vippone Selassie Stando a quanto ha riportato la pagina Very Inutil People una delle tre ragazze concorrenti della sesta edizione del grande fratello Vippone sarebbe incinta Infatti la segnalazione arrivata alla pagina riferisce che le tre ragazze sono state viste nello studio di una ginecologa, mia cognata dice che dalla sua ginecologa c'erano le sorelle Selassie e una di loro è incinta, è questa la segnalazione arrivata alla pagina Very Inutil People Notizia fake che ha fatto il giro del web e ha sorpreso le stesse sorelle che si sono ritrovate al centro del gossip Da qui il loro intervento con un video su Instagram per smentire quanto riportato Nessuna tra Clarissa, Lulu e Jessica è incinta. Le tre ragazze si trovavano dal ginecologo per una visita di routine Clarissa ha voluto precisare che quando sarà incinta sarà lei a raccontarlo Mentre Jessica ha esordito con un video dove si mostra con un calice di vino bianco e dice Amore ma quale incinta Alla salute di tutti i miei haters